Addio, Zampone. So che qui sarai contento. No, Zampone, no! Oh, grazie, bello, sì. Frela, Zampone, bello! Frela! Dacci dentro, Zampone, dagliene uno da parte mia. Credevo che sarebbe stato più felice nel suo abito. Oh, penso che lo sia. Perché sta attaccando tutti quegli altri elefanti? Beh, gli animali non sono come le persone, signora Simpson. Alcuni di essi si comportano male perché hanno avuto una vita difficile oppure sono stati maltrattati, ma come le persone, alcuni sono semplicemente deficienti, la smetta, signor Simpson. Tacci tu! Oh, tacci tu! Oh, tacci tu! Tacci! Tacci! Tacci!